Lei sa con chi sta parlando? Sta parlando con il numero uno degli imprenditori italiani con uno che nella sua vita ha realizzato tutte le cose difficili che si è messo come obiettivo e vuole che io, alla mia età, non abbia fatto dei cancoli certi e venga qui a raccontare queste cose se non avessi la matematica certezza se non fossi assolutamente sicuro di quello che dico mi paragona Di Maio a quegli altri